La città giapponese di Hiroshima ha ricordato il dramma della prima bomba atomica sganciata nel 1945, osservando un minuto di silenzio. Un centinaio le nazioni rappresentate al Memoriale della Pace. All'evento ha visto per la prima volta la presenza di un rappresentante dell'amministrazione di Barack Obama. Il sindaco non ha menzionato nella dichiarazione sulla pace le contestate norme sulla sicurezza in discussione al Parlamento. Il Premier Abe ha detto che questo paese vuole realizzare un mondo libero dalle armi nucleari attraverso misure realistiche e pratiche. Presenteremo una nuova risoluzione all'Assemblea dell'ONU per l'eliminazione delle armi nucleari.